Emozioni e lacrime al Grande Fratello, il ritorno sorpresa di Mirko e l'abbraccio affettuoso a Perla. Ma prima di raccontarti cosa è successo, ti chiedo di condividere il video con i tuoi amici e attivare la campanella delle notifiche. Grazie! Mirko fa un inaspettato ritorno nella casa del Grande Fratello, portando con sé una serie di emozioni travolgenti e un doppio confronto con Greta e Perla. La vera sorpresa arriva quando Perla scoppia in lacrime leggendo una toccante lettera natalizia che ha scritto a Mirko, il triangolo amoroso. Tra Mirko, Perla e Greta continua a tenere alta la tensione nella casa, nonostante l'uscita di Mirko dal gioco e un'apparente stabilizzazione della situazione tra le due concorrenti rimaste. Alphonsi Signorini, il conduttore del programma, si assicura che nessun dettaglio sfugga, mantenendo viva l'attenzione del pubblico. Il primo confronto è tra Greta e Mirko, con Greta che ha ancora i segni della recente rottura con Mirko. In settimana ha espresso la sua delusione accusandolo di averla usata e gettata, ma in diretta ritratta mostrando comprensione per il suo ex. Greta ammette che l'influenza dei social media ha pesato sulla loro relazione, affermando di non voler più esporre la sua vita sentimentale in quel modo. Mirko concorda, riconoscendo la necessità di ritrovare se stesso al di fuori delle luci della ribalta. Nonostante la comprensione reciproca, Mirko dichiara di non amare più Greta, suscitando una reazione visibilmente scossa da parte di lei. Il momento più toccante arriva quando Mirko legge la lettera di Perla, scatenando un fiume di lacrime. Perla, con delicatezza, ha scritto delle sue emozioni profonde, rivelando che Mirko è ancora l'uomo più importante della sua vita dopo suo padre. La comprensione di Perla nei confronti di Mirko, che attraversa un momento difficile durante il periodo natalizio, scioglie le resistenze di lui, portando entrambi alle lacrime. Signorini sottolinea la bellezza del persistere del bene nonostante le difficoltà. Infine, Mirko e Perla si ritrovano nel cortile della casa per un lungo abbraccio, con Perla che dichiara quanto sia mancato a lei. Un capitolo emozionante si chiude, ma il destino dei tre concorrenti continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, promettendo ulteriori colpi di scena nella casa del grande fratello.